Nel numero di tutte le competizioni che si stanno organizzando, siamo stati chiamati a dare una mano per la rinascita e per il rilancio di questa regione, lo sport lo sta facendo sicuramente, abbiamo risposto presente e nel rispondere presente però abbiamo anche chiesto e chiediamo di metterci nelle condizioni di poter fare di più e fare meglio. La strada passa sicuramente attraverso infrastrutture sportive che sono necessarie alla regione, la strada passa sicuramente anche nella realizzazione del palazzetto dello sport di Terni. È stato presentato l'altro ieri, io per problemi istituzionali ero a Roma, sono stato assente ma il delegato Lupi ha partecipato per il CONI, un progetto ambizioso che conosco nei particolari e anche il progetto che permetterà alla città di Terni di dotarsi finalmente di un palazzetto per poter aspirare ad organizzare, ad ospitare attività nazionali e internazionali come da queste parti si è abituato a fare. Grazie. Grazie.